Per Tiago Motta quella di oggi è una giornata importante, sei tornato ad allenarti con la squadra, hai tanto che aspettavi questo, far parte del gruppo è una cosa che per un giocatore è fondamentale. Sì, è importante e anche diverso perché quando ti stai allenando da solo non è facile, però credo che ho fatto un bel lavoro con Andrea, soprattutto per l'infortunio che ho avuto alla coscia, ho recuperato benissimo. Mi trovo bene, oggi mi sono allenato con il gruppo, anche domani e già per questo fine di settimana per poter giocare qualche minuto. Allenamento quest'oggi sotto la pioggia, avete fatto anche una parte di tattica, con il mister è molto attento a tutti i dettagli. Sì, lui vuole che arriveremo alla partita contro il Milan senza nessun dubbio, in questo senso che lui vuole il press in alto, oggi abbiamo provato di farlo, è arrivata la pioggia, ma credo che l'idea l'abbiamo in mente e solo dobbiamo trasladare in campo. Questo weekend invece è dedicato a una coppa così particolare, si gioca a Dublino, affascinanti però le sfide con il Celtic da una parte che è tanto avanti nella preparazione e il Manchester City che comunque fa parte dei club attuali del calcio europeo con cui ci si deve sfidare anche per la Champions League. Sì, sarà un bel torneo con due squadre di un livello già importante, il Celtic e poi il Manchester City magari lo troveremo in Champions League, è una squadra che si sta rinforzando da due o tre anni, si sta rinforzando molto bene, vediamo, vediamo qual è il livello delle nostre squadre. Puoi già giocare qualche minuto? Sì, sicuro di sì. Bocca al lupo. Grazie. Ciao.